Ciao, sono William Isacchi di blog isacchi.it e oggi voglio rispondere a una domanda che spesso mi viene fatta ma quanto tempo ci vuole a montare gli infissi? Per rispondere a questa domanda mancano degli elementi naturalmente, però ti voglio dare comunque delle indicazioni che ti faranno capire il più o meno il tempo che ci vuole in installazione. Diciamo che gli elementi che mancano fondamentalmente sono la grandezza dell'abitazione in cui vado a installare gli infissi, il tipo di posa in opera che voglio adottare per posare gli infissi e il terzo punto è il livello di accuratezza che voglio raggiungere. A livello di dimensione, se prendo un appartamento normale con 7-8 finestre, una casa, una villa anche con 20-30 finestre. A livello del tipo di posa, chiaramente sarà diverso posare l'infisso con 4 viti e un giro di silicone tirato al dito come una volta, come quando io ho iniziato a lavorare nel 1988, quindi 32 anni fa. Oggi, se si vuole fare un montaggio fatto come si deve, si usano tecnologie molto più evolute rispetto al silicone una volta che crea anche problemi di muffa e condensa, ma questo è un altro discorso e lo abbiamo già trattato. Come anche a livello di accuratezza, un posatore che è abituato a installare infissi in case private avrà un'accuratezza diversa da quello che magari è abituato a fare un po' di tutto, fare i capannoni, fare i condomini e fare delle miele private. Comunque, tornando al discorso per darti un'indicazione di massima, diciamo che un appartamento normale con 7-8 infissi, posato alla vecchia maniera, alla maniera tradizionale con 4 viti silicone, molto probabilmente in un giorno hanno finito tutto. Invece con una posa accurata e fatta come si deve, sarà un lavoro di qualche giorno, potrebbe volersi anche 3-4 giorni a secondo delle dimensioni degli infissi, anche il piano e il bucato e tantissime altre cose. Comunque, montare gli infissi è sempre una questione di giorni, non è un lavoro che si può fare 2-2-4 e non è un lavoro che si può fare velocemente perché gli infissi, se si scelti bene, dureranno decine e decine di anni. Quindi qualche giorno in più per la posa in opera accurata, fatta come si deve, non ti deve spaventare. Se ti affidi a delle persone serie, a dei posatori serie, a delle persone serie, non avrai nessun tipo di problema. Spesso ci succede ad esempio con i nostri clienti che quando ci vedono come lavoriamo al primo giorno hanno già capito che siamo talmente affidabili che ci danno le chiave di casa e li vediamo alla mattina quando ci aprono la porta e alla sera quando tornano dal lavoro. Proprio perché se ti affidi a un'azienda serie, un'azienda di fiducia, questo è quello che può accadere. Quindi se ti occorrono infissi, con tempi di consegna giusti e non tirati via, non è una giornata da montare tutta la casa, puoi andare su www.bisacchi.it e richiedere per iniziare una nostra consulenza. Ciao e al prossimo video!